ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su ades un gioco che è stato recentemente nominato indie dell'anno 2020 e quindi ho deciso di portarlo così a fine anno io il gioco non l'ho ancora sto sfruttando diciamo l'account di un amico che mi ha gentilmente permesso di giocarlo ma lo sto valutando davvero perché il gioco è davvero interessante e soprattutto si trova in questo momento su epic store usando il buono da 10 euro a soltanto 10 euro 90 benché su stima 20 euro 90 mi hanno sempre detto il gioco merita comprarlo lo valuterò come magari regalo di natale per intanto lo andiamo a provare e vediamo un attimino di che cosa si tratta allora è un roguelike siamo il figlio di ade vogliamo fuggire da questo regno infernale dove ogni anima comunque va a finire prima o poi vogliamo noi invece vogliamo uscire fuggire da lì dovremo morire ripartiremo da capo e ci porteremo dietro un pochino di cose diciamo insomma vi faccio vedere in breve qua abbiamo la nostra stanza la nostra camera vi faccio vedere qua con lo specchio abbiamo la possibilità di vedere e di potenziare questi questa valuta queste pietrine viola e usando anche delle chiavi che ne abbiamo soltanto una adesso se non lo spesa lo spesa può prendere anche dei talenti qua ho potenziato spendendo 10 la vitalità tonia insomma ogni fine stanza guadagno 1 di vita tornando indietro possiamo andare a vedere anche nostra madre ipoteticamente e anche direttamente ade che sta facendo le sue scartoffie possiamo anche donare questa valuta ma in realtà ma facciamolo glielo dono gli dono questa cosa in modo da poter ottenere qualcosa e questo dovrà anche potermi ammanziare con simili offerte dammelo subito sparisci da qui dovremmo aver sbloccato qualcosina in pratica quello che si può fare è usare il tasto q per degli attacchi speciali quando lo possiamo fare però è messo poi vi faccio vedere e possiamo anche d'attacchi speciali con varie armi e ora quello che c'è cui possiamo accedere da qui ispezionando abbiamo varie cose e che possiamo dare a sbloccare donando determinate cose a delle persone io però ho donato ad ade ma non mi ha dato niente l'ho semplicemente buttato via ma è pazienza lo scoprirò al momento io ho comprato spendendo le mie la mia chiave un'arma perché qua chiedono tre chiavi quattro chiavi potremmo decidere di volta in volta se spenderlo magari per dei talenti piuttosto che delle armi al momento io ho la spada che l'arma iniziale qui potete fare questo potete fare il mega attacco potete invece col tasto destro a lanciare questa cosa che diciamo una pietra che poi andate a recuperare nel momento in cui il mostro muore in questo caso vedete l'ho persa io fino a quando non avrò abbattuto del tutto il il mostro questo un chiaro esempio non potremmo più lanciarla infatti adesso vedrete che appena lui morirà ributterà a terra la pietruzza infatti vedete che l'ho appena ripresa ce l'ho nuovamente probabilmente se la butto via manca un nemico posso recuperarlo oppure ho quest'arco qui con cui posso sparare ovviamente le frecce caricando posso fare anche un attacco perfetto perché se aspetto la fine quando diventa diciamo colorato diventa colorato appena appena subito dopo aver raggiunto il massimo posso fare più danno e soprattutto posso usare questa abilità qui io voglio provare non l'ho ancora fatto giocare una partita con l'arco anziché e la spada quindi andiamo tentiamo la fuga il gioco non si discosta molto da quelli che sono magari dead cell o alta insomma è sviluppato dagli stessi di bastion e transisto giochi che ho ma che ho giocato veramente pochissimo di rapire come giochi o pyre troveremo dei doni troveremo anche noi siamo Zagreus scusate il nostro nome accetto questo messaggio troveremo queste cose durante l'avventura che ci cambieranno le cose e assisteremo a delle conversazioni abbastanza divertenti dei vari dei saluti giovanotto tu padre è sempre stato un tipo alquanto difficile e da un bel po che non si fa sentire ma non temere avrai una casa migliore qui nell'olimpo al tuo giusto posto e per darti una spetta nella direzione giusta eccoti la mia benedizione ok possiamo scegliere una cosa per partire facciamo danni fulminei danni fulminei che vedete mi sa tanto di difficile questa modalità qua con con l'arco perché vedete che infatti ho già perso però devo dire che faccio un bel po di danni è tosta con l'arco effettivamente credo che non andrò molto lontano perché devo abituarmi cambia totalmente il tipo di gameplay in questo caso però mi prendo una chiave o sbaglio mi sono preso una chiave no mi pare di no comunque fa parecchio danno però il problema è che non si può fare il mini attacco però cavoli funziona 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 ed è che qua ed è il problema è che appunto io ho un mostro davanti e posso solo fare l'attacco caricato che potrebbe essere un gran problema nel caso in cui il mostro arrivasse immediatamente di fronte a me adesso io posso fargli un'improvvisata di questo tipo però non è il massimo devo essere iper reattivo lo sto giocando con mouse e sastiera quindi devo dire che mi trovo abbastanza bene ok in sintesi davanti alla porta c'era il simbolino della chiave quindi battendo questa stanza abbiamo vinto una chiave molto bene al momento però ce ne servono due per sbloccare un talento quindi cerchiamo di andare a farne un'altra possiamo procedere in varie direzioni di qua si prende questo di là si prende quell'altro io non lo so però avendo già perso un po di vita subito vado su questo rosso nel dubbio e vediamo che cosa ne salta fuori quelle lì sono piattaforme che danno origine a degli spuntoni che ci fanno malissimo vedete allora dicevo il gioco non presenta nulla di nuovo nelle meccaniche però ha vinto il titolo di indie per la giocabilità a livello tecnico veramente eccelso eccezionale da soddisfazione per quanto io non sia un grande fan dei roguelike veramente mi è piaciuto quindi sto veramente valutando l'acquisto proprio personale in modo da averlo e finirmelo perché a me scorcia avere i giochi comunque di account che non sono miei insomma e però veramente per chiudere quest'anno non potevo non portare assolutamente questo titolo questo titolo che ha vinto il titolo di indie del 2020 sto andando male molto male ma però dai così morto fortunatamente è morto così allora vediamo un attimo si si ho messo proprio malissimo sono messo proprio malissimo perché il tizio lì nascosto mai più mai più giocare con l'arco perché l'arco è estremamente potente ma estremamente scomodo per come sono abituato a giocare infatti qua potevo colpire con la spada e rimandargli indietro questo raggio viola questa sfera viola ma il problema è che veramente non ce la faccio mamma mia un cuore di centavo ottiene più 25 perfetto siamo andati 56 a 75 potenziato la vita non so perché comunque una chiave o della queste lacrime qui le lacrime li mi servivano per potenziare la vita la rigenerazione della vita però vabbè vedete 56 adesso 57 di vita quindi ogni passaggio stanza otteniamo ora l'obiettivo di questa di questa run era quella di ottenere un'altra chiave per poter prendermi il talento e soprattutto scoprirlo insieme a voi quindi io in questo caso voglio arrivare vivo almeno alla fine di questa stanza ok sono poi iniziano ad aumentare anche le valute perché vedete che abbiamo in basso a destra quella valuta gialla che è un'altra valuta ancora che possiamo usare a spendere oh perfetto abbiamo preso la chiave quindi diciamo che a questo punto siamo già a metà dell'opera possiamo prendere vita sì direi che è l'unica direzione in cui possiamo andare quindi procediamo in avanti poi col pad credo sia ancora meglio io allora io dico ce la posso anche fare volendo con un po di fortuna ma uno scontro con un boss è assolutamente infattibile con questo tipo di arma almeno magari modificando l'arma secondaria qualcosa si può fare ma veramente tosto veramente molto molto difficile via 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 ok ecco questa è stata veramente diciamo che ho voluto anche fare questo video perché appunto è stato il gioco dell'anno e the game awards 2020 ma soprattutto perché io prima di poterlo provare avevo visto delle live di altre persone tra cui vabbè mi pare multiplayer.it tecno turbo tecno insomma come si chiama e crystal cross gaming ma non avevo in realtà capito come fosse il gioco cioè all'inizio io pensavo fosse proprio un gioco la diablo con una storia infatti mi sono informato un po e non è così e quindi volevo dare un pochino l'idea di come fosse questo gioco realmente ok eccola lì sì questa diciamo che è abbastanza boia mondo queste che fanno veramente malissimo poi tante cose sono distruttibili da proprio soddisfazione distruggerle ok dai se ce la faccio no vabbè ma forse inconsciamente c'è anche voglia di morire andare a cambiarmi quest'arma veramente pessima perché sì sì non vedo l'ora di morire infatti adesso ne stanno arrivando anche altri i teschi sono relativamente deboli ma è ancora un colpo e me ne vado e poniamo fine a questa agonia ok ho solo 4 di vita però mi sono preso anche queste dai vediamo fin quando riesco a reggere una volta che finisce la stanza poi non ci sono più gli spuntoni quindi può andare anche di qua no perché siamo arrivati di qua no siamo arrivati da giù vabbè comunque può accendere di qua non so cosa sia questo ci proviamo anche se mi sa tanto di sala boss questa non uso mai l'attacco secondario guardateli tutti insieme ok ok è finita è finita non c'è via di fuga ok 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 abbiamo finito ah c'è da parlare a cavoli sotto l'ambasciatore io ti ho speditati qui ti ho preso il gioco ok va bene questo è le tre teste c'è vero vabbè cosa dice nostro padre mio nuovo appaltatore ufficiale figlio sarà la sua responsabilità di innovare questa dimora così giustifica anche il cambio dei dungeon ogni volta che si va su va bene va bene fammi vedere un po' cos'è questo decora ah si possono spendere per decorare cose che non servono a niente sono puramente estetiche infatti si usa una valuta che non ho ancora visto va bene che la tenebra ti guidi nix nostra madre non dimenticherò arrivederci volevo prendere il talento adesso con le due chiavi ah no ma 5 no eh si 5 chiavi è vero niente ho letto male io ricordo male io però possiamo spendere 12 di questi di questi qua oscura presenza che cosa dà? infliggi danni maggiori col tuo attacco e attacco speciale quando colpisce le spalle lo prendo giusto per bene vediamo se le chiavi le possiamo spendere per qualche arma nuova anche se in realtà non credo perché dovrebbero essere più costose infatti a tene abbiamo questa che non si sa cosa sia mi riprendo questa e direi che adesso sono molto 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 più a mio agio ok dai cambiata l'arma andiamo a provare un'altra run andiamo di nuovo sembra proprio un martello di dedalo uh vediamo che bonus abbiamo all'inizio questa volta stoccata crudele infelice 200 più di danni 40 grandanno critico ti rende risoluto per 8 secondi 30% di danni in meno danni in base a quante monete diciamo abbiamo la tua stoccata il terzo colpo in sequenza sbalza via i nemici si mi piace perfetto adesso siamo imbattibili andiamo a finire il gioco ecco abbiamo già perso 8 di danni 1,2,3 e poi facciamo una marea di danno al terzo colpo il problema qua è che rischiamo di focalizzarci sul fare degli attacchi un pochino sconsiderati però guarda passiamo di qua ok 1,2,3 mamma mia non ci arriviamo quasi neanche al terzo colpo 1,2,3,4 ok 1,2,3 fine 1,2,3,4 fine prendiamoci le nostre monetine vita o questo non so cosa sia questo abbiamo ancora tanta vita quindi andiamo avanti è un bel incremento di danno calcolando quello che abbiamo già preso e facciamo siamo dei belli cattivelli questo giro li ho proprio spinti indietro evitati con maestria adesso in questo caso ok ho fatto quel danno lì adesso ci riprendiamo anche l'attacco ok perfetto abbiamo preso questo è un nuovo una nuova valuta devo essere un disastro vediamo un po' il nome di Ade Olimpo accetto questo messaggio vediamo un po' cosa vuole affradite idea dell'amore ma buongiorno devo riconoscere che non passeggiato in osservato perciò ho deciso di aiutarti per il momento se è interessato sì danni attacco attacco speciale no lo scatto no questo aumentiamo ulteriormente il danno non ho capito se mi si somma a quello di prima o meno però andiamo avanti e vediamo dovremmo recuperare ben tre chiavi ovviamente il gioco non va giocato così allo sbaraglio va ragionato un pochino di più perché ovviamente per finire il gioco non è che bisogna continuare all'infinito il gioco va portato a termine completando tutti gli schemi senza mai morire con una vita sola quindi non è propriamente una passeggiata però anche perché poi arrivano i boss però diciamo che sta andando discretamente bene in questo giro vita andiamo avanti più o meno adesso siamo dove eravamo prima a livello di diciamo di uh fa malissimo questo nuovi mostri questi se io passo qui cosa succede? mi fermo qui ecco qua sono un coglione però insomma fondamentalmente fanno questo attacco abbastanza bastardo boi am ah ma uccide anche loro quindi potrei sfruttare la cosa ma cosa sono i vasi che camminano qua? un po' fantasia eh niente sono messo veramente male ma fortunatamente la vita che ho acquisito è quella che ho perso in modo stupido spendo spendo cosa? ok possiamo spendere le monete abbiamo 46 posso comprarmi ripristino il 10% ok preso subito senza neanche leggere gli altri così ripristiniamo a così grandi linee il 10% 5 punti dovremmo dare 59 entrando nella stanza nuova vediamo se è giusto ho arrotondato 63 no ok un pochino di più boi am mondo vi mamma mia mamma mia ok riprendi questo ah ma c'è qualcuno che lancia granate mamma mia che botta sì c'è anche il fuoco amico per loro devo dire almeno così mi sembra ci sono delle mine ok quindi ci sono ah quei vasi maledetti molto bene abbiamo concluso ma stiamo andando alla grandissima adesso non c'è un'altra porta magari no devo prendermi per forza questo questa valuta qui va bene va bene andiamo avanti bene questi lanciano le bombe io mi farò vedere abbastanza veloce agile in modo da evitarli sono dei semi boss questi vedo che hanno la vita gialla però vediamo se dopo la vita gialla muoiono no diventa diventa rossa dopo quindi hanno la doppia barra della vita ma sono morti relativamente in fretta perfetto mi sento proprio di manica larga al momento questo è Dioniso il dio dell'ebbrezza sai cosa intendo bello mio perciò che ecco ti una cosetta un po' più forte di quelle che ti ho abituato il tuo lancio scatto tieni una vita ogni volta che ci si va bene mi da anche un po' di vita adesso quindi va bene va benissimo chiave 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 quei cristalli lì sono un po' come ho già detto bastardelli però noi siamo sempre abbastanza devastanti dopo il terzo colpo dobbiamo però fuggire da sistemare i cristalli ma direi che frenetico per frenetico però mi sto muovendo anche discretamente bene mi prendo la chiave senza battare il ciglio ora abbiamo questo che non so cosa sia o questo io mi piace quello di coltesco e voglio andare a vedere che cos'è tra l'altro avevo portato un gioco molto simile a questo che non ricordo ah questa è una stazione intermedia dove si può andare a spendere monete ma non ho non ho niente questo è questo è caronte il traghettatore delle anime vabbè andiamo a tirare minnanz e prendiamoci altra valuta ancora si va avanti non si arriverà lontano adesso i mostri iniziano a diventare parecchio più forti infatti vedete quanta roba vola e la cosa bella di questo gioco è che sicuramente valuterò anche la possibilità di averlo per switch perché il gioco è uscito anche per switch e quindi stavano parlando anche di una sorta di di cross save cerco di attaccarli prima che sbuchino dal loro portalino da dove nascono perché sto giocando un po' a cazzo adesso devo dire la verità perché a breve morirò ho solo 14 di vita un paio di colpi e finisce però forse me la cavo si ho preso dei crediti tra l'altro adesso potrei spenderli per l'altro posso prendere questo o posso prendere quello quelle gemme per l'estetica diciamo del rifugio dell'Ade vado qua che c'è un boss anche se in realtà qua mi sa tanto di boss quindi direi che qua il nostro percorso si interromperà via sono esplossi tutti si sono fatti anche molto male cerchiamo di giocarla in modo intelligente anche se non sono molto ottimista in proposito perché il boss non scherza via fuji sciocco si direi che ce la siamo giocata discretamente bene anche se in realtà non è finita poi questo gioco poi una volta che la avrò che la avrò valuterò l'idea anche di una live perché secondo me si presta veramente tantissimo ma veramente tanto non l'avrei mai detto non l'avrei mai detto ho cinque chiavi riusciamo a prenderci il talento appena muoio cioè a breve riusciamo a vederci anche il talento riuscire vivo con quella vita lì non l'avrei mai detto adesso io non vedo l'ora di morire è morta stupidamente per andare a prendermi il talento e scoprire insieme a voi che cosa può offrire si si va bene fammi vedere il mio talento e vediamo che cos'è cos'è che possiamo portarci di là vediamo un po' cinque chiavi o compriamo un'arma o compriamo un talento ma dato che le armi bene o male si sa come funziona prendiamoci questo ahah ne abbiamo sbloccati altri ah ogni cosa porta via adesso dieci chiavi ok abbiamo anche il sangue ribollente infliggi danni maggiori con l'attacco attacco speciali nemici all'interno no animo infernale aumenta la tua riserva da lancio più uno per grado ah posso lanciarne due dopo invece rifletti scattanti più uno scatto aggiuntivo in successione oh fuga dalla morte non ricordo se l'avevo anche prima ripristina il 50% di vita invece di morire quando la tua vita è totale esaurita una volta per grado si prendo questo decisamente decisamente non ho altro da spendere se non fare un'ultima prova e andare a donare a nostra madre questo ok più uno nuovo memento scialle plutonio ok lei ci ha dato qualcosa e il nostro padre invece che ce l'ha fatto buttare quindi in teoria uscendo di qua dovremmo avere qualcosa nell'armadietto qui infatti ho qualcosa di nuovo da provare equipaggio un p10 danno quando colpisce un nemico per la prima volta in seguito alle spalle fantastico sarebbe perfetto perfetto la prossima prenderemo tre chiavi e andremo ad analizzare questo le armi poi sono tutte qua ragazzi questo era Ades ringrazio ancora il grandissimo Luca per avermi permesso di giocarlo adesso sono ancora più convinto dell'acquisto lo volevo portare appunto come ho già detto più volte durante il video perché è risultato essere il miglior indie dell'anno e adesso vedremo prima della fine dell'anno farò un video dove vi diciamo dichiarerò i migliori giochi dell'anno i migliori giochi più che altro credo il miglior gioco che ho provato io ovviamente escluso questo che comunque è già il miglior per conto il suo magari i migliori tre ecco che ho provato quest'anno e anche il video di fine anno di auguri di buone feste insomma per quanto belle possano essere e poi mi prenderò un po' di pausa fino all'anno prossimo bene ragazzi un abbraccio a tutti non mancate qua sotto di lasciarmi i vostri commenti in proposito e noi ci sentiamo al prossimo video in play alla prossima ragazzi e ciao ciao